Ma stasera i vampiri di Matera! Ora è giorno, ma stasera arriveranno i vampiri, sono previsti verso le 22 alle motocelle e siamo tutti pronti con il collo per farci vampirizzare e parleremo di questa meravigliosa collana che si chiama Blue Nocturne, di cui noi siamo proprio devote. Tu sei devota! Devotissime! Lo sai, non leggo vampiri, ho paura, ma mi fa schifo quel sangue che c'è di là, loro con i sanguinati. Il concetto è questo, tu ami l'uomo che ti seduce, ti seduce per l'eternità, è un alfame che ti seduce per l'eternità. Che differenza c'è tra uno sceicco e un vampiro? Che mio fedele. L'uomo è di giorno e il vampiro è di no, è fedele. Il demore, tutti i tatuati, bellissimi i vampiri, i tatuati. Va bene, allora, stasera a Matera ci saranno i vampiri di Matera, Arlecchino presenterà il Blue Nocturno. Ditemi voi, come può Giurro si chiama il rosa? Ma questo è un rosa con un po' di nero! Arrivederci, ciao ragazze!